Certamente è un tema questo assolutamente rilevante. Purtroppo i pazienti ematologici sono pazienti fragili, immunocompromessi e quando si ammalano di Covid-19 corrono rischi anche di morte purtroppo molto molto elevati. Più elevati rispetto alla popolazione generale e più elevati rispetto a pazienti ematologici che per fortuna non contraggono questa infezione in forma così severa. Quindi assolutamente è necessario mantenere una vigilanza strettissima che nel nostro dipartimento onco-ematologico e inematologia stiamo attuando dalle primissime fasi dell'inizio della pandemia di sorveglianza, di monitoraggio di pazienti, familiari, professionisti. Nello stesso tempo è assolutamente rilevante continuare a fare ricerca su questo tema. Noi la stiamo facendo raccogliendo come società italiana di ematologia i dati di epidemiologia, di efficacia di cure per questi pazienti nel nostro paese. Il tema del vaccino, del vaccino anti-Covid-19 è un tema di assoluta priorità e stiamo lavorando, l'ematologia di Modena insieme alla società italiana di ematologia e alle istituzioni nazionali per far sì che i pazienti ematologici possano vaccinarsi tra i primi, tra le prime categorie a rischio del nostro paese. Il lavoro è un lavoro del Presidente della società italiana di ematologia, del professor Locatelli, Consiglio Superiore di Sanità. Il tema è quando i vaccini saranno disponibili. Noi formiremmo ai pazienti, ai familiari, ai medici di famiglia, informazioni scientifiche accurate per orientare il momento più opportuno per vaccinare questi pazienti.